Torniamo a Lucca, la Cappella Guinigi ha ospitato il quinto corso di alta formazione organizzato dalla Fondazione Giuseppe Pera, ospite la professoressa Silvana Sciarra, giudice della Corte Costituzionale. Si è aperto nel segno della solidarietà e della previdenza sociale il quinto corso di alta formazione organizzato dalla Fondazione Giuseppe Pera, che ha visto nella Cappella Guinigi di Lucca la partecipazione della professoressa Silvana Sciarra, la quinta donna, a fare parte della Corte Costituzionale. È stata lei a tenere la lexio magistralis dal titolo La solidarietà e il sistema previdenziale. Sciarra, studiosa di diritto del lavoro e autrice di numerosi volumi, ha affrontato i temi cardine del corso. Il sistema previdenziale, con le sue inevitabili e sempre più frequenti modifiche, e la solidarietà, elemento essenziale quando si parla di società e previdenza, tematiche dense di implicazioni nel tempo della crisi. Sì, è una giornata importante per la Fondazione Pera, perché come di consueto i corsi di alta formazione sono inaugurati da un pomeriggio con la lexio magistralis di un prestigioso giurista. In questa occasione il corso è dedicato alla previdenza sociale e abbiamo l'onore di avere con la giudice costituzionale la professoressa Silvana Sciarra. Questo è per noi davvero un grande momento, anche perché sono presenti eminenti studiosi della materia previdenziale, oltre che a vari rappresentanti degli enti e delle associazioni che sostengono le attività della nostra Fondazione. È stata una scelta importante quella di dedicare il corso alla previdenza sociale. L'incontro ha inaugurato il corso di alta formazione che proseguirà ogni venerdì fino al 29 giugno.